Daniele De Rossi sta per tornare nella sua Roma. È lui l'uomo prescelto per il post-murigno per voltare pagina dopo l'esonero comunicato stamane dalla società. L'unica scelta che la società poteva prendere per evitare un rigetto d'amore da parte del popolo giallorosso legato all'allenatore portoghese. De Rossi dunque sta per tornare a Trigori a quattro anni di distanza dal suo addio alla Roma nell'estate del 2019, poi l'avventura al Boca Juniors da calciatore in nazionale da collaboratore tecnico e alla SPAL da allenatore, anche se con poca fortuna. Una scelta di cuore da ambo le parti, da quella della Roma perché De Rossi resta insieme a Totti il simbolo della storia recente del club e da parte di De Rossi perché la situazione non sarà certo di facile gestione. Ma il suo coinvolgimento emotivo per i club è così alto che Daniele ha deciso di accettare la sfida anche a rischio di sbagliare scelta. La speranza ovviamente è che vada tutto per il verso giusto, che possa essere il matrimonio desiderato e voluto da entrambi. Con la Roma De Rossi ha vinto due volte la Coppa Italia e una Supercoppa italiana con Spalletti allenatore. È stato nominato miglior calciatore italiano nel 2009.